La pubblicità dice Red Bull ti mette le ali, qua dobbiamo dire G.S. ti mette le ali, J.A.X., vieni giù, dai che ti ho messo la pappa, J.A.X., ha soli due anni di vita, già si è fatto due FIP, vero J.A.X., la prima e ora l'ha ricaduta a distanza di due anni, vero J.A.X., la prima che era piccolino piccolino, perché non gli era bastato che era arrivato con la gastrointerite, vero, a un mese di vita, no, la vita lo voleva proprio uccidere, vero G.J., eh, dai che mi devo fare le altre gabbiette, J.A.X., vai a mangiare, guardate, per fortuna ora respira bene, non c'è più liquido attorno al cuore, la prima FIP se l'è fatta con liquido nel torace, nell'addome, la seconda FIP giustamente ha detto me la faccio con liquido in torace, bello, non ti farei venire più FIP di nessun genere, questa è la seconda e ultima che ti curo, eh, dai vieni a mangiare che ti ho preparato la gabbia.